Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio darti il quarto consiglio per poter far funzionare la legge d'attrazione. Quindi aspetta fino alla fine del video e capirai qual è. A dopo! Bene, il quarto consiglio è quello di agire. O bene, devi agire prima, dopo e durante. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che prima di metterti a fare la visualizzazione devi agire per alzare la tua vibrazione, per essere positiva quando lo fai. Perché se già prima di iniziare la tua visualizzazione hai una vibrazione alta, questa tua visualizzazione avrà già una vibrazione più alta e quindi sarà più convincente per l'universo. Quindi fai questa attività. Prima vai ad alzare il tuo livello di energia, vai ad alzare la tua vibrazione. La seconda cosa è agisci mentre hai la visualizzazione. Cosa vuol dire? Che ti devi muovere mentre immagini? No! Dentro la tua immaginazione non deve esserci un'immagine ferma, come se fosse una foto ferma, bloccata lì. No! Te all'interno della tua visualizzazione ti devi muovere, devi fare delle azioni, devi immaginare quali sono i passi e il percorso che fai per poter arrivare all'obiettivo. Come se fosse un film, te devi guardare questo film e quindi devi agire all'interno della tua visualizzazione. E poi agire dopo. Cosa vuol dire questo? Che se tu vai a visualizzare anche tutti i giorni, anche più volte al giorno, ma poi non metti in pratica quello che devi fare e quindi non agisci per poter raggiungere quel determinato obiettivo, non ci riuscirai mai. Quindi devi agire, devi agire e devi andare verso quell'obiettivo. Poi l'universo ti aiuterà anche, però te ti devi muovere verso quell'obiettivo lì. Pensa se vuoi incontrare l'amore. Visualizzi che incontri l'amore, visualizzi che incontri l'amore, visualizzi che incontri l'amore e poi non esci mai di casa. Capisci che è molto molto difficile che tu possa incontrare l'amore se non esci mai di casa. Sì, può capitare magari il postino? Non lo so, però sarà molto molto difficile. Se invece esci di casa e cominci a conoscere gente nuova, avrai più probabilità di conoscere qualcuno che ti possa piacere e del quale ti puoi innamorare. Quindi devi agire. prima, dopo e durante. Mi raccomando, te lo ripeto tutti i giorni, agisci. È la cosa fondamentale. Spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così aiutiamo anche loro. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!